A seguito dell'ondata di maltempo che è interessato nella giornata ieri anche la provincia di Teramo, creando non pochi disagi e fatto ingrossare i fiumi, in particolare il Vomano, la provincia di Teramo nella serata ieri ha deciso di chiudere al traffico precauzionalmente il ponte di Castelnuovo, importante via di collegamento fra il comune di Cellino Attanasio e quello di Castellalto. Decisione presa dopo aver ascoltato i sindaci del territorio dopo l'esito del sopralluogo compiuto in serata. Ma stamane con il miglioramento delle condizioni meteo all'esito di un nuovo sopralluogo compiuto dai tecnici della provincia di Teramo, la presenza dei sindaci di Cellino e Castellalto, il ponte di Castelnuovo al Vomano è stato riaperto al traffico. Stamattina è stato riaperto il ponte di Castelnuovo, il ponte vecchio famoso perché ieri sera si è valutati che era meglio precauzionalmente di tenerlo chiuso. E' una storia vecchia, non è una storia dell'altro ieri, è una storia che avanti da tantissimi anni, da più di 15-20 anni e giustamente deve essere pronto il nuovo ponte. Anche qui una storia è partita male, malissimo, sono due anni che stiamo cercando di rimettere in piedi una storia che sta fatta male, male, male. Adesso abbiamo l'ultimo incontro con gli uffici per far partire nuovamente, ultimare i lavori del ponte e così metteremo tra virgolette una piedra sopra sul collegamento tra le due sponde. Non è semplice perché poi abbiamo sempre il problema del vecchio ponte e bisognerà capire che fare perché così come sta a breve non lo ritroveremo. Purtroppo, oppure per fortuna, oggi deve sempre venire l'incontro di umiltà pubblica e la sicurezza dei cittadini e così è stato e abbiamo deciso stanotte onde evitare di tenere chiuso il tratto. Ricordiamo che il ponte in questione da anni vive una grave condizione di degrado, per questo la provincia sta portando avanti i lavori per la realizzazione di un nuovo ponte. Noi pensiamo di chiudere il famoso ponte nuovo che dobbiamo ultimare entro l'anno 2022. L'ho detto e i cittadini sono oramai spazientiti perché purtroppo è una storia vecchia, ma io adesso sono presidente della provincia Pro Tempore e sono sempre chiamato per gestire le emergenze, i casi complicati. E la sorte è sempre dalla mia parte, dico sempre, oppure il buon Dio è sempre vicino a me, sono sempre riuscito a fare l'impossibile. Sono convinto che per fine 2022 quest'opera che la zona e che la Valla Selvomana aspetta da tantissimi anni sarà portata a termine.